Sono state molte richieste e qualcosa si è concluso. Il livello della fiera rispetto all'anno scorso sembra più coerente probabilmente perché mancando alcune gallerie c'è stato più spazio per adattarli in maniera più unita diciamo. Il livello è buono, buona giovani, sconosciuti, qualche più conosciuto. Mi sembra di percepire un pochino meno gente probabilmente perché anche oggi con il bel tempo sai che Milano si svolta essendo sabato però credo che domani dovrebbe esserci un po' di ritorno. Sono 13 anni che faccio fiere, non ho mai avuto delle aspettative che fossero confermate in un senso o nell'altro. Per esempio sto vedendo molto meno pubblico di un certo tipo rispetto al passato però nelle tradizioni precedenti di questa fiera non ho venduto tanto quanto ho venduto la prima sera messa insieme per cui sono più che soddisfatto. Siamo abbastanza contenti, c'è il pubblico soprattutto oggi e come vendite abbiamo venduto diverse fotografie è una fiera che sta crescendo e chiaramente non siamo in un periodo di grandi, di un momento molto felice economicamente però diciamo è andato meglio del previsto. Le vendite quest'anno fino ad oggi non sono buone. Mi pare che anche i colleghi in giro il clima non è positivo. I motivi li sappiamo in Italia in un periodo particolarmente difficile. Anche perché voi vendite da Lugano e da esperienze totalmente diverse. Noi ci salviamo con l'estero, una fiera all'estero e in contatti con l'estero. Un'Italia ha troppe tassazioni, troppi vincoli. Il livello della fiera tiene abbastanza, mancano le grosse gallerie internazionali, mancano i classici della fotografia, Quintesse, Capie Pesson, List, Adams e tanti altri. Tuttavia il livello bisogna essere segnato. Sono felice di essere qui e credo che abbiamo avuto una grande reazione e è stato un'audienza meravigliosa e vorrei sicuramente tornare.